Io non so se critica, però D'Annunzio è la vitalità irriguardosa fatta persona e la forza di D'Annunzio è la forza secondo me della vitalità che per alcuni viene vissuta criticamente, polemicamente i suoi rapporti con Mussolini, i suoi rapporti con Re, i suoi rapporti con le donne i suoi rapporti con Pescara che ha amato e ha detestato al tempo stesso l'idea che non sia un impiegato della cultura italiana ma che sia appunto il Vate e il grande poeta per lui è sempre stato motivo per me di orgoglio ma anche per molti di critica quindi la vitalità di D'Annunzio secondo me è la cosa più straordinaria del genio italico e perciò forse con Giordano Bruno Guerri si può celebrare, anzi grazie a Giordano Bruno Guerri che ne rappresenta forse la sua eredità più importante, si può testimoniare la forza di questo genio italico